Prova, 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 abbiamo spento no? Bisogna spegnere dietro un po'. Senta, scusa, è entrato adesso un po'. E benvenuti a sti fraccioni, belle e grossi e capoccioni, e tu che sei un po' free free, e dimmi un po' che c'hai da dire. Continui, continui, continui a suonare. Non sono fraccione, non mi chiamo free free, sono commissario e ti faccio un gulo così. Scusate, dottore, non mi piace tanto. No, guarda che stiamo già registrando. Capiti qua, veni un po' più qua, avvicinati. Bravo, bravo, bravo. Allora, noi intanto continuiamo ad adottare bottiglie di vino. Esatto. Questo è un maschietto, questo è un Chianti. Esatto, un Chianti, perché la maggior parte dei vini sono maschiti. Ecco. Giusto, noi in gioceria facciamo eccezione che abbiamo la passerina. Vabbè, però, insomma, perché siamo più attenti, per cui abbiamo deciso che un vino è maschile, un vino è femminile. Non cominci a fare discorsi da squallista. Ah, no, no, no. Non fare lo squallista. Assolutamente no. Allora. Allora, dai, qual è questo argomento che ti urge? Che mi urge, che mi irrita proprio. Eh, beh, urge, irrita. Al di là, diciamo, della scelta che ha fatto Nichi Vendola, che io non condivido, ma questa è una questione di opinioni, quello che mi irrita veramente è che davanti alle critiche il signor Nichi Vendola abbia detto squadristi, squadristi. Cioè, come squadristi, squadristi? Allora, uno critica l'euro, populisti, populisti. No, questo è assolutamente... No, è la stessa tecnica, è la stessa tecnica. No, 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 scusami, che non parlo di questa competenza. Fammi dire il concetto. Cioè, un Nichi Vendola che è un professionista della politica non si può permettere, non è un signore qualunque che a un certo punto viene violata, tra virgoletto e senza virgoletto, la sua vita privata e quindi... Ma che è violata? Lui ha detto che lo ha fatto come provocazione creativa. Oh, esatto. No, quindi, se la fai come provocazione poi devi rispondere. quindi il compito principale e invece lui che risponde risponde squadrista, squadrista stiamo dicendo la même shows che Bentrol non se lo può assolutamente permettere può ricevere le critiche anche assurde non è questo il caso qualunque tipo di critica lui è tenuto, è pagato è stato profumatamente pagato nel corso degli anni e continuerà ad esserlo per rispondere, per dare spiegazioni quindi è inutile che sa benissimo che il confine tra la vita privata e la vita pubblica non esiste, a maggior ragione lui addirittura questo confine è lui che dice che io sul fatto che non esista questo confine non sono d'accordo secondo me questa cosa non è assolutamente vera perché se lui avesse fatto questa cosa in privato, l'ha dichiarata come una provocazione lui l'ha trasformata in un fatto politico e a questo punto davanti alle critiche risponde squadrista, squadrista è assurdo no? è l'ennesima contraddizione insopportabile di quest'uomo che non si capisce quali forze lo sostengono per fare per svolgere il ruolo che svolge a questo punto la domanda è d'obbligo francamente no? quali sono le forze che sostengono Nichi Vendola? un bel marketing propagandistico che ce lo presenta tutto quanto infiocchettato come il progressista di sinistra è questo e bisognerebbe cominciare ad aprire un attimo gli occhi un signore che spende 170 mila euro per acquistare degli ovuli di una signora impiantarli su un'altra signora e realizzare il tutto in California dove c'è una legge che gli permette l'adozione internazionale questo ragazzo nasce con adozione a cittadinanza internazionale addirittura capito? eh e tu questo qua rispondi dicendo squadristi, squadristi eh questa è l'unica cosa che sappia dire quando invece se pensa come senz'altro è di aver fatto una scelta giusta la comunica la spiega e magari si batte pure spiegando deve spiegare non soltanto il suo desiderio di essere padre ma deve spiegare anche il fatto che ha acquistato un ovulo e che poi questo ovulo l'ha impiantato nell'utero quindi nel corpo di un'altra donna che ha pagato queste sono le cose che deve spiegare il compagno Nichi Vendola e dovrebbe cominciare a rendersi conto del danno che lui fa ai lavoratori ah beh ma penso ma penso ecco ma penso che alla fine alla fine la seconda maggioranza dei lavoratori quelli che insomma devono sbarcare il lunario o che cosa alla fine prendono un pochettino o l'hanno già preso le distanze da immagino ma scherzi io gli frequenti i lavoratori di questo non so non lo so ma in questo periodo ne conosco tanti le parole che vengono usate cioè devo sopportare queste cose tipo questi comunisti ricchioni capito allora tu sei comunista sei ricchioni grazie grazie Vendola grazie grazie questa è un'operazione veramente un'operazione che fa estremamente comodo al capitale no? e e Nicchi Vendola con una carriera quarantennale che vedo di compagno di sinistra si presta a questa operazione senza pensarci come se fosse un coglione qualsiasi sai Nicchi Vendola sei stato governatore delle Puglie tra l'altro proprio oggi è uscito che è stato rinviato al giudizio per la questione dell'ILVA anche lì risponderà squadristi squadristi è certo questo è quello che volevo dire ci teniamo a dirlo al di là diciamo della scelta che io non condivido assolutamente perché penso che non si possa approfittare di ogni progresso della tecnica senza forsi delle domande senza porre dei limiti perché la tecnica è potenzialmente illimitata come possibilità e quindi se non accettiamo l'idea che ogni novità che la tecnica ci porta deve essere sottoposta a un valio etico morale e cioè come dire di accettazione della collettività che cosa resta? resta che se ogni progresso ogni possibilità offerta è lecita vuol dire chiunque ne può approfittare poi voglio vedere il giorno in cui arriverà una possibilità offerta dalla tecnica di cui potranno approfittare anche i ceti lavoratori vedrai che quel giorno verrà limitata verrà proibita forse anzi no forse sicuramente invece una cosa come questa che fa che mercifica ulteriormente il corpo degli uomini è quindi è a disposizione di chi ha più soldi questa è normale non c'è niente di male questo è quello che voglio dire è così d'altronde se non c'è l'interesse diretto economico di qualcuno certe certe leggi cose non vengono portate avanti sono promosse perché comunque fanno l'interesse economico di qualcuno ma credo che in questo caso ci sia qualcosa di più oltre all'interesse economico certo è un giro d'affari ma non è un giro d'affari così così grande quindi credo che ci sia proprio all'opera come dire un'ideologia una concezione del mondo però insomma è un discorso difficile dal quale non voglio avventurarmi ma la sensazione che non ho ancora ben approfondito ma la sensazione che dietro tutto questo ci sia un'ideologia e non soltanto un mero interesse economico è sempre più forte ecco però non voglio approfondire questo discorso ma qual è questa l'ideologia l'ideologia liberista l'ideologia che con il denaro si può comprare qualsiasi piacere qualsiasi privilegio qualsiasi cosa l'ideologia che come dire che vuole di coloro che vogliono sottrarsi all'etica collettiva e vogliono poter fare ciò che vogliono perché sono potenti perché sono ricchi perché hanno il potere mentre invece quando anche chi è ricco e potente deve sottoporsi all'etica collettiva questo è un vincolo quindi c'è come una specie di come dire di desiderio di andare di raggiungere i livelli di potere per coloro che hanno i mezzi mai visti nella storia umana o forse sì già visti chi lo sa quando cioè proprio le classi dominanti avevano il completo controllo dominio sui sottoposti ai tempi della schiavitù per esempio poi bisogna vedere se si arrivava ai livelli di oggi perché che ne sappiamo forse anche la condizione di schiavo era in qualche modo regolamentata quindi è un discorso difficile Claudio però ripeto secondo me c'è un elemento ideologico perché altrimenti non riesco a spiegarmi questa furia questa violenza e rapidità nel cambiamento io sono un uomo che quando ero giovane nel mio paesello discutevo con i miei amici se fosse cosa opportuna sposare una donna che non fosse più vergine ovviamente io dicevo sì non c'è problema capito e i miei amici dicevano no io mai mi sposerei con una che non è più vergine oggi io perlomeno mantengo l'idea che avevo quando avevo 16 da 7 anni all'epoca ero un progressista oggi sono diventato un retrivo reazionario i miei amici che non volevano sposare una donna che non fosse vergine adesso applaudono capito all'unione civile la stepchild adoption e via dicendo i tempi sono stato superato a sinistra dai tempi capito sono diventato un reazionario incredibile vabbè ma magari la stessa cosa lo dicevano quelli che tu ti dica allora quando eri come quelli di adesso dai cioè voglio dire che magari la stessa la stessa amarezza per il fatto come dici tu che sei stato scavazzato di essere stati scavaccati a sinistra eh no vedi qua tu denunci questa frase che appena detto questo qualunquismo no non è qualunquismo denunce denunce il fatto che tu hai una visione del progresso unidirezionale capito per cui epoca dopo epoca il progresso va avanti e quelli che rimangono indietro capito si lamentano come dei vecchi babbioni del fatto si si hai sintetizzato bene ho giusto o sbagliato comunque hai sintetizzato bene il mio pensiero quindi sei un come dire un progressista sei no progressista lo stai dicendo tu diciamo che le cose si modificano in questa maniera poi se sia un progresso o un regresso io francamente la progressione nel senso che la storia c'è una direzione nel senso che c'è una progressione un andare avanti poi non si capisce se la direzione è verso qualcosa di buono o verso qualcosa di cattivo diciamo che va verso c'è una direzione ho capito invece io penso che la storia segua un percorso frattalico casuale una traiettoria senza senso per l'uomo poi magari se un senso ce l'ha ci vuole una mente superiore qualcuno dall'esterno ma per l'uomo che non può vedere se stesso dall'esterno la storia non è né ciclica né unidirezionale ma un percorso caotico questo è il mio punto di vista e quindi siccome è un percorso caotico passo dopo passo bisogna lottare per portarla in uno o nell'altra o nell'altra ancora direzione va bene va bene signori va bene va bene fai la battuta finale no no se ci mettiamo a fare della filosofia della storia certo le cose si ingarbugliano anche perché c'è chi sostiene che non sia proprio possibile una filosofia della storia quindi quello che ho detto esatto esatto forse non ci siamo capiti ma io sono convinto della stessa della stessa bellissima cosa insomma alla fine esistono una serie di accadimenti che è già difficile circoscrivere gli accadimenti e poi c'è la ricostruzione fatta a posteriori e quella è la storia infatti non vorrei dire è quella che ha fatto vendola una ricostruzione una sciocchetta no nemmeno e no era una battuta sì certo bravo diciamo una battutaccia ma no ma invece è una battutaccia che comunque non regge perché lui nemmeno qualcosa del genere ha fatto insomma quando ho capito cioè diciamo che probabilmente cose di questo genere Almodovar racconta in uno in più dei suoi film in cui infatti c'è un film che adesso non mi ricordo come si intitola che parla di una coppia di 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 diciamo gay di sesso femminile vabbè lesbiche vabbè in questo film di Almodovar a un certo punto una delle due donne quella diciamo più caruccia o perlomeno che rientra di più nel nei canoni dei maschi no nei canoni dei maschi a un certo punto seduce e si fa ingravitare da un maschio è chiaro però insomma perlomeno diciamo che comunque voglio dire ammesso che esista la categoria della natura della naturalità della naturalezza chiamolo come di pare insomma ci siamo però certo qua siamo a livello proprio di laboratorio scientifico insomma senti Claudio ma secondo te i froci e le lesbiche in percentuali in percentuale quanti sono quella che è la tua percezione diciamo praticanti che io ho percepito sulla intera popolazione i froci e le lesbiche quanti sono non ne ho la minima idea sinceramente potrebbe essere alta la percentuale bassa ma dovresti domandare una cosa prima in base a cosa si definisce un frocio o una lesbica eh no non tanto me l'hai tolto nell'età della smania me l'hai tolto di bocca è una cosa un po' ambigua nell'età della smania quando si è giovane della smania della smania lo sai smanioso un anno un dieci anni fa parlavo di un altro smania penso che non sono cambiato i tempi in quelle età lì capita a un sacco di persone di avere esperienze omosessuali certo perché sono allora questi cosa vogliono farci credere che siccome nell'età della smania un sacco di gente capita ad avere esperienze borderline che so al 30% al 40% quelli che non fanno queste esperienze è solo perché sono repressi quindi questa narrazione gay diciamo che cosa ci vuole dire che la sessualità è una cosa fluida che in realtà è la pressione sociale che determina questa rigidità perché altrimenti tutti saremmo bisessuali questo è quello che ci vogliono raccontare capito e io invece dico che i froci e le lesbiche sono il 4% perché c'è una differenza enorme tra fare una scelta certo capito e sotto la pressione della smania a 18 a 20 anni farlo l'esperimento fai l'esperimento te capita una volta a due ma poi tu sei maschio te sei femmina e non ci venite a rompere i coglioni siete una minoranza esigua e questa esigua minoranza oggi esercita una dittatura perché è coesa esatto e come la esercita la esercita anche giocando su questo perché siccome c'è tantissima gente che nella sua vita ha avuto qualche esperienzuccia omosessuale allora questi dicono ma forse magari sono un po' frocio pure io allora come faccio a pormi no non sei frocio hai fatto sotto la pressione della smania hai fatto un po' il porco una sera ma essere frocio è un'altra cosa è cazzo ma lo pubblichiamo questo io mi sputtano se pubblico questo affare beh io però diciamo che non mi interessa no ma sto concreto è così sì sì non confondiamo due livelli insomma vabbè vabbè insomma noi ci possiamo permettere di dire anche stupidaggini perché tanto oh e fai cresciamolo bene sto bambino l'abbiamo adottato ma che diamine lo vogliamo trascurare non è che se domani ci convincono che abbiamo detto stupidaggini noi non siamo capaci di ammetterlo di ammetterlo mica diciamo squadristi squadristi esatto quindi tranquillamente a cuor leggero ascolto con queste tue opinioni espresse ic e tenunche vabbè ic e tenunche ic e tenunche però voglio soltanto far notare nella maniera cotanta che mi caratterizza che il mio ruolo è molto passivo in questo cioè mi sto limitando ad ascoltare no 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 ci tengo ci tengo a dire vabbè va bene ok allora buonanotte sogni dono che dobbiamo dire